Intanto si moltiplicano le ordinanze dei comuni che vietano per domani sera l'uso dei fuochi d'artificio. Come ogni anno alta l'attenzione delle forze dell'ordine contro i prodotti illegali, sequestri di ingenti quantità di materiale in diverse città italiane, Pescara, Napoli, Taranto. Però vediamo insieme alcuni consigli per festeggiare il Capodanno in sicurezza per noi, per i nostri cari, anche per i nostri animali, con i consigli di un artificiere e di un cinofilo della Polizia di Stato. Come ogni anno la Polizia di Stato ha messo in campo un'attività di contrasto alla vendita illegale di fuochi d'artificio, i famosi botti che si usano durante le festività di fine anno. Anche come attività di informazione sul corretto utilizzo di questi fuochi d'artificio se regolarmente acquistati. Fiorellino, libellula, codino matto, stellina. In effetti sono dei fuochi d'artificio che possono essere utilizzati in sicurezza. Non bisogna utilizzarli impropriamente perché potrebbero portare a dei danni. Ribadiamo delle regole semplici ma fondamentali per l'utilizzo di questi prodotti pirotecnici. Non accendere mai in luoghi chiusi ma sempre in aree aperte, lontano da case, da persone, da animali e da minori. Dobbiamo fare attenzione anche se c'è presenza di vento. E' importantissimo non andare sul fuoco in esploso. Quindi una volta lanciato o acceso il fuoco, se non funziona non andare assolutamente sullo stesso, con il viso, con le mani, quant'altro. Non avvicinarsi. Poi ci sono questi prodotti pirotecnici, impropriamente chiamati bombe carta. Ma sono dei veri e propri ordini artigianali che fanno dei danni, hanno delle conseguenze anche letali. Da non utilizzare assolutamente, in epoca passata avevamo il pallone di Maradona, adesso abbiamo la bomba Covid. A parte il nome, stiamo parlando di veri e propri ordini artigianali, da cui bisogna stare assolutamente lontani. I nostri animali sono soggetti a spaventarsi davanti ai rumori molesti, quali botti e fuochi d'artificio. Il primo dei consigli è quello di non farli. Capodanno è però una festa, rendiamola una festa anche per i nostri amici a quattro zampe. Possiamo consigliare di tenerlo dentro casa, di far sì che abbia un suo angolo, un suo rifugio dove si sa che sta tranquillo. E per far sì che venga attutito il rumore esterno, chiudiamo bene le finestre, abbassiamo le tapparelle, facciamoci vedere tranquilli quando ci sono i botti. Perché la nostra tranquillità gli aiuta.